Siamo lieti di avere sul palco di fuori passaggi le coliche. Siamo in compagnia di Fabrizio Colica, benvenuto Fabrizio Fano, benvenuto ai microfoni di Fano TV. A brevissimo presenterai questo primo libro ufficiale delle coliche perché in realtà è un duo, lo conosciamo bene, insomma puoi dire tutto quello che vuoi perché tuo fratello non è qua, quindi puoi essere libero e tranquillo. È un'occasione unica, è una cosa che ho fatto ampiamente nel libro, nel senso che ci siamo sparlati in un l'altro a vicenda, però ecco, sono qua da solo e effettivamente avrei un'occasione più unica che rara, sia parlare male del proprio fratello. Nel libro non faccio solo questo, ma parliamo di varie tematiche della vita, così come facciamo sul web da quattro anni a questa parte, e lo facciamo in maniera molto più approfondita, molto più, diciamo, ci prendiamo molto più i nostri tempi per farlo. E lo abbiamo fatto in un intreccio narrativo, cioè raccontando ognuno la propria visione, spesso degli stessi eventi che abbiamo vissuto e spesso in maniera completamente diversa l'uno dall'altro. Come il mal di pancia, un titolo emblematico, quando da voi in realtà, è vero che colica, ma il mal di pancia viene solo per ridere con voi, bisogna dire così. Ah, speriamo, per me è l'obiettivo più bello del mondo, riuscire a far ridere qualcuno. Come il mal di pancia è purtroppo la frase che dobbiamo dire ogni volta dopo il nostro cognome, perché tutti di colica è, non ci credono, giustamente, e qui dobbiamo dire come il mal di pancia, sì esattamente, quindi abbiamo deciso di dare questo nome al libro. Grazie e quindi buona presentazione. Grazie a voi. Prego. Grazie. Di cosa? Eh, per quello che fate. Vendere libri? Sì, ormai si sono fissati tutti quanti questi libri elettrici. Elettronici, sì, è vero, c'è un po' una fissa generale. Ma vuoi mettere il piacere del cattaccio? Un'altra cosa. Ah, io adoro i libri. A chi lo dice? Il loro profumo. L'odore delle pagine, no? La loro consistenza. Carli con mano. Il loro sapore. Il loro sapore. Come il loro sapore. Ma che fa? Ma che fa? Lascia il libro. Il monito. Ma che scherzi? Ma lasci? Quello l'altro, ma la sa? Mi ha rimesso il pezzettino dei denti. Buono però.